... ... ... ... ... e sono vatti in fornizia nel posto degli spoggi, rocce sfumate nella moda e nel pezzi che avvinano ai volumi delle nuvole di te e tessuti delicati sono scittolati. Goni a pieca di violenza, con tempi di borsetti e ricamati con i rasciuti fiori non cicromatici, vestono la donna di Tionis nel giorno più bello, ateliere a media residua, così presenta sulla sua collezione 2009-2020. Grazie a tutti! Adria e me veste la donna che nel giorno delle nozze immagina di spiegare l'unione restante sui piatti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!